Bentornati sul canale, bentornati, 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 oggi martedì, martedì, anche oggi, anche oggi ci sono notizie di mercato, come ormai abbiamo capito, insomma, ci sono degli aggiornamenti, ci sono delle conferme, soprattutto in chiave Inter. Allora, cominciamo a dire, leggendo un po' le prime pagine, in questa primissima mattinata, anche se poi voi il video chiaramente lo vedrete nel corso della giornata, magari in tarda mattinata, quando già Lautaro sarà sceso in campo per l'esordio dell'Argentina di oggi contro l'Arabia Saudita, ore 11 italiane, io non so quando poi pubblicherò questo video, vedremo, insomma, ma sapete bene che l'orario di registrazione non coincide con l'orario di pubblicazione, chiaramente. Allora, scorgendo un po' i giornali all'alba, praticamente, di questo martedì, possiamo subito concentrarci su due macro temi a livello di calcio-mercato Inter, uno che riguarda le cessioni e l'altro che riguarda gli arrivi, con, in particolare, un'intervista interessante su tutto sport dell'agente di Alcaraz, il centrocampista del Racing, no? Di il quale vi sto parlando ormai da diversi giorni, un'intervista che, peraltro, ha ricalcato quasi in maniera identica quella già rilasciata a FC Internews qualche giorno fa. Ma partiamo dalle cessioni, perché la Gazzetta dello Sport propone un focus sull'Inter proprio in ottica a D, e sono tre quelli individuati, descritti come sull'uscio della porta di Appiano Gentile, Gosens, Correa e Gagliardini. Tre temi che già abbiamo, anche qui, già abbiamo sviscerato in questi primi giorni di mondiali in Qatar. Di Gosens ormai sappiamo vita, morte e miracoli. L'Inter lo vorrebbe trattenere, lui vorrebbe chiaramente maggior spazio, le esplosioni di Marco non depone chiaramente in suo favore. L'ultima voce della Gazzetta dello Sport è quella dello Schalke 04. Non banale perché lo Schalke 04 è la squadra del cuore di Robin Gosens, quindi appena tornata peraltro lo Schalke in Bundesliga dopo un anno, un anno o due, se credo un anno, un anno di purgatorio in Serie B, nella zweite Bundesliga, potrebbe essere un'opzione, dunque, quella di... quella dello Schalke 04, ma ci sono diverse, diverse richieste per Gosens o non ancora, non ancora formalizzate, quindi quando si parla di voci, quando si parla di interessamenti, non vuol dire che ci sia una trattativa in essere. Stessa cosa per Gagliardini, si è parlato di Monza, Cremonese, addirittura Siviglia, io non ho evidenze in questo senso, ma non mi stupisce la volontà nel caso di Gagliardini di cercarsi un'altra squadra, anche perché evidentemente ha capito che nell'Inter quest'anno lo spazio non sarà quello desiderato. E poi Correa, ormai pare chiara a tutti, ma il suo storico, insomma, parla per sé. Possiamo dire, ormai, la cronica difficoltà nel fatto di essere continuo all'ello fisico e quindi questi continui intoppi, questi continui inciampi, con infortuni un po' lievi, un po' o meno lievi, che comunque non consentono a Correa di trovare quella continuità della quale avrebbe grande bisogno, soprattutto non gli consente di essere un'alternativa credibile all'attacco titolare di un grande club, in questo caso dell'Inter. E allora l'Inter potrebbe cedere Correa, ma come poteva anche cederlo dell'estate scorsa, torno a dire ancora una volta, per l'ennesima volta, non c'è stato un mercato congruo e concreto. Vedremo se ci sarà a gennaio. Francamente io trovo difficile sia la partenza di Gagliardini, se volete la mia, sia la partenza di Gagliardini che quella di Correa, a gennaio, a meno di clamorose e a oggi, posso dire, imprevedibili scelte di qualche club che non sia disposto ad andare a pagare un giocatore di scadenza come Gagliardini e andare a pagare un giocatore cagionevole come Correa, vedremo, non si sa mai comunque, l'Europa è piena zeppe, poi però ci deve essere anche l'ok da parte del ragazzo, quindi tutta una serie di incastri non così banali. Più possibilista sono sull'uscita di Gosens, anche se evidentemente non credo alle richieste eventuali dell'Inter, cioè cessione definitiva sui 20-25 milioni, quella la vedo già molto più complicata. E allora si va di situazioni fantasiose e tutto è legato all'eventuale arrivo di Turam, chiaramente. Turam che andrebbe ad anticipare un colpo per l'attacco previsto comunque per la prossima stagione e a sostituire nell'eventualità Correa, mi sembra evidente, quindi Turam arriva a gennaio solo se parte Correa, solo se avrà l'Inter, determinate disponibilità economiche da poter investire immediatamente sul mercato. E però appunto vi parlavo dell'intervista all'agente di Alcaraz, perché è importante, perché ha confermato quello che vi sto dicendo, che su di lui c'è vero c'è il Milan, ci sono alcune richieste da altri club, altri interessamenti più che richieste, altri club europei, dalla Premier League anche, ma l'Inter fa sul serio, l'Inter fa sul serio, l'Inter aveva chiesto in formazione in estate proprio per il centrocampista, e l'agente di Alcaraz ha confermato come l'Inter lo stia continuando a seguire. Infatti lui ha sottolineato la visita, il viaggio di Bacin in Sud America nelle scorse settimane. Un ennesimo indizio che fa capire quanto l'Inter segue, quanto l'Inter tenga bene nel mirino, fermo nel mirino, il centrocampista argentino del Racing. C'è anche un rimando un po' nostalgico, storico, della gente di Alcaraz quando parla di Milito, di Zanetti e di Lautaro soprattutto, gente che appunto, Milito e Lautaro, viene dal Racing e l'ultimo affare appunto è stato quello di Lautaro e l'Inter sappiamo che quando qualcosa lì si muove c'è sempre anche lo zampino del vicepresidente ex capitano nerazzurro e questo è un po' quello che appunto vi sto dicendo io, per le quali ho avuto anche conferme e fa piacere appunto come anche la gente del giocatore sottolinei l'interessamento forte dell'Inter oltre a quello del Milan e come lo stesso Alcaraz si è rimasto molto impressionato da questo avvicinamento, da questo accostamento. Io non ho dubbi sulla volontà nel caso di Alcaraz di vestire la maglia nella azzurra, è chiaro che anche qui tutto sta alla formula, alla forma dell'eventuale trasferimento e qui subentra la carta Colidio. Lo stesso agente di Alcaraz ha evidenziato come anche in patria si parli di Colidio che piace, piacerebbe tanto al Racing, Colidio che nel Tigre sta facendo benissimo e quindi potrebbe essere la carta vincente per questo colpo perché sarebbe veramente un bel colpo da parte dell'Inter, magari non già a gennaio però in prospettiva futura, quindi a giugno tutto chiaro, anche qui passa dalle cessioni, quando mi scrivete sui commenti perché, come fa, perché, dove trova i soldi, è chiaro che devono, esce uno e entra un altro, da quella logica, anche una questione di liste al di là dell'aspetto economico, ma da quella logica ragazzi non si esce, sì, attivate la campanellina per non perdervi contenuti, mettete like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Un saluto.